Ciao da Fatina Birichina! Oggi voglio presentarvi le Precious Girls, le ragazze preziose che sono all'interno di queste due bellissime piramidi glitterate. Allora, un pochino lei già si vede perché la piramide è un verdino acqua e lei si vede un po' meno. Allora, andiamo a scoprire cosa c'è all'interno. Vi farò vedere prima questa perché questa non l'ho ancora aperta mentre questa sì e le ho anche già messo il vestitino. Allora, guardiamo cosa c'è all'interno di questa piramide. Intanto scopriamo che se non sbaglio sono sei. Una, due, tre e tre, sei. Allora, apriamo. Vediamo, magia, magia! Ah, eccola qui! Benvenuta piccolina! È tutta rosa, guardate che bellina! Ha i capelli rosa lunghi, gli occhietti azzurri, il body rosa e anche le scarpette. Allora, le scarpette non si possono togliere e neanche il body. Poi c'è qui una bustina. All'interno della bustina ci sarà il suo vestitino. Chiamo in aiuto il mio collaboratore Folletto Spinkie Picchio che mi aiuta ad aprire la bustina. Guarda, qui c'è già... qui... forza! Vediamo, intanto che Spinkie apre, ve la faccio vedere più da vicino, ha anche le lentiggini, un faccino simpatico. Vediamo che cosa c'era all'interno della busta. Ok, allora, all'interno ci sono degli stickers, una spazzolina, poi c'è questo che non ho ben capito bene se... Non ho capito bene se è una collana, se è da mettere nei capelli e poi c'è la gonnellina. Adesso vado a vestirla e poi torno subito da voi. Eccomi qua. Allora, ho fatto un po' in fatica a mettere questa gonnellina più che altro perché le scarpine non si possono togliere. Poi io questo ciondolino l'ho messo qui nei capelli, però si può mettere anche come una collana oppure come una fascetta. Poi c'è una cosa che ho notato, che i colori degli occhi, comunque, voi non lo vedete così nel viso, però sono molto molto leggeri. Secondo me andavano fatti un po' più forti, però nel video non si vede. Sembra quasi un visino sbiadito. Comunque è molto carina, si muovono sia le manine che i piedini, anche la testa. Adesso mettiamo questo qui e vi faccio vedere anche la sua sorellina, che è qui nella piramide verdina. Guardate che bella anche lei. Allora, aspetta perché questo ormai si è tolto. Invece lei ha la stellina, l'argento, il body argento e anche le scarpine. Invece la cannellina è sempre un'azzurrina celeste, un verde acqua. Ecco, lei invece è bionda, ha sempre gli occhi azzurri e anche il suo visino è un po' sbiadito. Guardate che carine, sono proprio belle. Eccole qui, le nostre due ragazze preziose. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi do un bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao e a presto da Fatina Birichina e Spinkipicchio. Ciao ciao!